Coraggio e perseveranza nel bene. 5 settembre 1974. Figli di Letti, sono con voi. Sono Gesù Redentore e Salvatore del mondo. La mia parola cada come semente nelle vostre anime, e porti abbondante frutto. Sia una ricchezza spirituale che non sopporti di essere tenuta al chiuso ma che si espanda e si comunichi agli altri. Desidero la diffusione di questi insegnamenti basati sul Vangelo, ma desidero in primo luogo che il vostro apostolato sia fatto soprattutto di esempio. Voglio farvi riflettere su un fatto narrato dal Vangelo. Una gran folla mi aveva seguito fin sulle rive del lago di Genezareth. Salito allora sulla barca di Pietro. Lo pregai di scostarsi un poco da terra e da lì presi a parlare alla gente. Potreste in questa immagine vedere prefigurata la sede di Pietro. Quando ebbi finito, invitai Pietro e gli altri a gettare le reti. Abbiamo lavorato tutta la notte e non abbiamo pescato nulla, disse l'Apostolo. Ma dietro il mio invito obbedirono e gettarono le reti. E fu il miracolo. Figli, forse anche voi siete talvolta tentati dallo sconforto e le parole di Pietro affiorano sulle vostre labbra così. Abbiamo pregato tanto. Abbiamo sofferto tanto. Non c'è nulla da fare. Forse avete chiesto guarigioni e conversioni che non avete ottenuto. Avete perso la fiducia e la speranza. Oppure vi siete per così dire lanciati in opere di bene e di apostolato. Avete radunato persone. Avete invitato a pregare. Avete parlato della mia mamma e di me. Ma poi vi siete sentiti ostacolati e spesso forse derisi. Avete pensato allora che è meglio rinunciare a fare il bene piuttosto che sopportare quelle umiliazioni. Anche Pietro pensava così e, gettando le reti, non sapeva certo che nel nome di Gesù e nell'obbedienza alla sua volontà avrebbe ottenuto il miracolo. Quando infatti ritirò le reti che con prontezza aveva gettato. Erano tanti i pesci che la barca minacciò di affondare. Sempre così dovete agire nelle vostre opere di apostolato. Dovete lasciarvi guidare dalla voce di Dio che vi parla attraverso la coscienza e dovete agire con fede. Non vi ho detto che, se avrete fede quanto un granello di senape, potrete spostare le montagne? Niente avvilimento perciò, niente paura, e nessuno si ritiri perché si ritiene incapace o perché vuole evitare fastidi. Con fede e con amore tutti uniti. È ancora e sempre una pesca miracolosa che si deve fare. Le opere di Dio vanno compiute con lui, senza temere ciò che le cose umane possono interporre per ostacolare il loro affermarsi. Occorre coraggio e perseveranza e da ultimo. Ascoltatemi bene. Quando Pietro vide la rete ricolma di pesci e quando la barca si fu avvicinata alla riva, egli si prostrò davanti a me dicendo. Allontanati da me, oh Signore, poiché sono peccatore. Ecco l'atteggiamento di umiltà e di riconoscenza che deve muovere i vostri cuori quando, aiutati dalla grazia di Dio, riuscite a fare del bene. Purtroppo molte volte le vostre opere buone e i vostri successi vengono rovinati per quell'amor proprio che vi fa vedere il buon esito come merito vostro. Vi sono persone che osano dire che hanno convertito, hanno salvato, hanno riportato al cuore di Dio le anime. No, figli, il merito del bene che fate ve lo darà il Signore. A voi non resta che umiliarvi e ringraziarlo, perché ha voluto o vuole servirsi di voi per portare a termine la sua pesca miracolosa. Io benedico ogni desiderio di bene che viene da me suscitato ed ogni opera che mira a diffondere fra gli uomini la verità, ma non voglio che venga meno il vostro merito a causa del vostro orgoglio. Rimanete come Pietro in questo stato di fiduciosa attesa di perdono e di aiuto, se volete che anche di ogni piccola azione vi sia data una ricompensa eterna. Ed ora qui, mentre prostrati ai miei piedi in ispirito, mi fate accusa delle vostre imperfezioni e dei vostri difetti. Ricevete il mio abbraccio di pace che vi assicuri del mio perdono e del mio amore.